E salve a tutti, non posso dire la parola che c'è scritto già nel titolo, che non posso dire, credo che avete già intuito di cosa si parla, ebbene si, si parla di, vabbè quello che dico sempre nella intro. Non potrò dirlo, e sarà molto difficile perché speriamo che non mi scappi, se no finisce il video. Ragazzi io veramente lo faccio finire, e non faccio il falso, oppure non lo chiudo perché non lo so, magari voglio che il video duri tanto, se per sbaglio mi scappa la parola, ecco, finisce il video. Ehm, credo che nel video potrò scrivere quella parola, però non potrò dirla, cioè nell'editing potrò scriverla e ci vediamo, stavo per dirla nella, nella, aspettati tutti. Allora, non devo, non devo, non devo, non devo dire, però non lo so se la parola che ora mi comparirà in sovraimpressione potrò dirla, posso dirla. Non lo so raga, non l'ho detto tutto raga, cosa, no, vado, non l'ho detto, ragazzi non l'ho detto, state tranquilli, non l'ho detto, stavo per dirlo, ma per fortuna non l'ho detto. Se non finiva il video, io volevo fare almeno una kill in questo video, comunque lasciate un bel like, iscrivetevi, è nulla. Ehm, aspettiamo che, di entrare. Comunque, voi che state guardando il video, eh, cioè questo video, questi tipi di video li faccio solo io, no, in realtà scherzo, però, forse la challenge di non dire, mh, l'ho fatto solo io in tutta YouTube Italia, quindi, iscrivetevi e lasciate like a questo video, se volete altri contenuti civili, perché solo io ve li porto. E dunque devo togliere il canale della partita, e qui c'è già un tizio sponato dalla nostra parte. Cioè, io non posso dire nemmeno quella parola riferita agli avversari, quindi magari, non lo so, anche se non l'ho mai detta con la parola riferita agli avversari, però, ci sono dettagli. Vedete, con uno speed incredibile di edit. Muori. Ok. Eh, vabbè, me l'ha rubata, però... Eh, però, che cavolo! Ragazzi, mi sto immaginando una scena in cui entra in... magari io sono in un party, entra il mio amico, eh, così, magari per salutarvi, vi dice Ciao! E poi, ragazzi, devo chiudere il video, perché bene, sì, ragazzi! Cioè, devo chiudere il video anche se lo dice un'altra persona, quindi... Devo stare molto attento di non entrare per sbagliare nel canale della partita. Magari c'è uno... Che... Che dì? Vi chiama. Con il nome che vi chiamo sempre. Comunque, posso dire, raga, cioè, anche se è un'abbreviazione, posso dire. Quindi, ragazzi, ho fregato il sistema. Praticamente questo qui non ha le H, ok, no. Perché sembrava avesse le H e io questo qui me lo mangio. No, in realtà no. Ho fatto una bella kill. Una bellissima kill. Tutta stelte, stelte, l'ho fatto fuori. Sì, rubata alla grandissima quest'arma, non l'ho mai, non l'uso mai. Quindi sono miratissimo. Ok. Che ragazzi... No. Vabbè, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. 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 Grazie.